Tanto buongiorno, commento oggi perché ieri stavo al battesimo di mio nipote, quindi chiedo scusa, io penso che ieri Aruma abbia fatto la sua partita, il caccio è fatto da episodi, stavolta sono stati a noi sfavorevoli, con un tiro, un porta, un gol dell'Atalanta, noi abbiamo fatto 22 tiri, non sei nello specchio della porta e altri fuori, la Roma non contesto nulla, ha fatto la sua partita, il caccio è fatto da episodi, a te a volte favorevoli, altre volte sfavorevoli, per quanto riguarda l'arbitro, stendiamo un velo pietoso, stendiamo un velo pietoso è meglio, perché gli arbitri sono un argomento un po' particolare, un argomento che non vorrei trattare, però il calcio è fatto così e andiamo avanti e penso che la Roma, giocando sempre così, i risultati arriveranno. Ripeto, i cavalli buoni si vedono all'arrivo e non in partenza, allora che dovremmo dire di Inter e Juventus? Che cosa dovremmo dire? La Roma a prescindere viene contestata per la sconfitta di ieri, contestata da chi? Io non contesto nulla perché ieri la Roma ha fatto vedere il suo valore secondo me, con e senza di Bano. Buona giornata a tutti quanti e forse a Roma sempre.